Ien, cari amiche e cari amici del circolo stilografico romano, doppia prova di scrittura di due penne della Visconti che scopriremo tra poco, una delle quali la proveremo con questo bellissimo inchiostro di Jacerben Terre d'Ombre e un altro invece con un Leonardo Noce Moscata, un bellissimo inchiostro che non ho qui con me, la penna è già caricata, veramente molto molto particolare come colorazione. Va bene, solo un rapido riscontro sulla scatola Visconti che più o meno conosciamo tutti, la classica controscatola di cartone bianca, con il cartone all'interno rigido di indicazione Visconti, la doppia V, il solito panno protettivo, il letto di velluto, anche il panno insieme al velluto, e un bel cartoncino che ci racconta la storia di Visconti e un po' quella dei vari modelli che sono in produzione e attualmente in vendita. Va bene, io direi che questa la possiamo subito togliere, tanto non ci fosse molto da dire. Allora, di cosa ci occupiamo oggi? Di queste due bellissime penne, almeno dal mio punto di vista, che sono la Visconti Rembranesse e la Mirage Mythos, che sono recentemente state reintrodotte da Visconti, o meglio, c'erano già in produzione, ma queste sono la rivisitazione di modelli precedenti. Allora, cominciamo un attimo con la, questa la lasciamo qua nel sfondo, con la Rembrandt S, io vi preparo anche un cartoncino, un quaderno dove scrivere. Allora, cosa possiamo dire della Rembrandt S? Innanzitutto, come abbiamo detto, è la reintroduzione, rivisitazione di un modello precedente, andiamo a fare un po' di zoom così la vediamo meglio, eccola qua, che è un modello precedente che cambia sostanzialmente, diciamo, ci sono alcuni miglioramenti e cambia in alcuni particolari. Innanzitutto, le livree. Oggi sono disponibili in quattro colorazioni, questa qui che è la Bordeaux, poi quella arancione, quella blu e quella nera. Dopodiché sono state riviste completamente le metallerie, oggi con finitura Rutenio. Eccole qua, molto bella la lavorazione di questa veretta centrale, si dovrebbe poter apprezzare, sì, si vede bene. La clip è la classica Visconti, che ricorda un po' il ponte vecchio, qui con la scritta Visconti incisa al laser. La parte inferiore della penna, con la finitura Rutenio, e la parte superiore con questa borchia, con la B di Visconti, che è sostituibile perché la penna adotta il sistema MyPen, che prevede la possibilità di sostituire questa borchia con una personalizzata, che potrebbe contenere al proprio interno, per esempio, un simbolo zodiacale, o un simbolo in generale, oppure le iniziali del proprio nome. Io vi faccio vedere, per esempio, la Homo Sapiens Dark Crystal, che è stata personalizzata con le mie iniziali. Questo tipo di personalizzazione si può ottenere al momento dell'acquisto, direttamente dal sito della Visconti, oppure anche successivamente si comprano queste borchie sostitutive, e si possono sostituire attraverso una chiave magnetica specifica, prodotta sempre da Visconti, che permette la sostituzione di questa borchia e, diciamo così, l'appoggio di quella nuova. Il materiale è una resina acrilica molto pregiata, di ottima fattura, bellissima la colorazione, qui appunto nella sua libreria Bordeaux. Questo materiale, a detta di Visconti, e in effetti il riscontro visivo lo conferma, presenta la peculiarità di avere delle gradazioni che vanno dal chiaro all'oscuro, e ricordano un po', insomma, la tipica caratteristica dei dipinti di Rembrandt, e che vanno appunto dalla, diciamo, colorazioni chiare a colorazioni scure, che sono assolutamente variabili a seconda del modello di penna che state acquistando. Ovviamente due penne anche Bordeaux dello stesso modello avranno sempre colorazioni diverse. Vedete che ci sono degli inserti, dei dettagli, che vanno dal grigio chiaro al grigio scuro, eccoli qua, alla parte nera, addirittura in alcuni punti. Vediamo qui alcuni dettagli. Eccola qua. Molto, molto, molto interessante. Diciamo così che il, questo modello presenta al proprio interno un nuovo pennino, che adesso andiamo a scoprire, il meccanismo di chiusura del cappuccio è magnetico, eccolo qua, e presenta appunto questo sistema di autoaggancio, che permette semplicemente l'aggancio del cappuccio sul fusto della penna, semplicemente appoggiando praticamente il cappuccio al fusto della penna. Eccolo qua. Togliendo il cappuccio, che vediamo ancora una volta, cappuccio che presenta al proprio interno un controcappuccio che va a sigillare e a permettere una minore essiccazione nel tempo dell'inchiostro, svela appunto il gruppo scrittura, che è caratterizzato da un alimentatore in plastica, il pennino di nuova generazione Schmidt, nuova generazione più che altro nuovo fornitore rispetto al precedente, la nuova dimensione che ora è 6 rispetto al precedente, che era un pennino di dimensione 5, qui ce l'abbiamo in gradazione F, lo metteremo alla frusta tra poco, il pennino con il suo collare si inserisce appunto in una nuova sezione di tipo metallico, rifinita anche questa in rutenio, con un piccolo svaso qui al punto di ingresso del pennino nella sezione, e la sezione con rifinitura appunto rutenio si svita e al proprio interno nasconde l'aggancio di un converter marchiato Visconti, eccolo qua, già caricato con un inchiostro che in questo caso appunto è Leonardo Noce Moscato. Il converter di Visconti è ad innesto e non è a vite. La filettatura della sezione si va ad agganciare a quella del fusto della penna che è sempre metallica, quindi abbiamo il classico accoppiamento metallo su metallo, dico classico non è così frequente ma in questo caso può è. Anche qui ancora una volta possiamo apprezzare la particolare librea della penna. Le differenze quindi dal modello precedente sono sostanzialmente nel nuovo pennino, quindi di dimensione 6, nella nuova finitura, nella nuova dimensione, nella sezione che è stata rivista. È stato rivisto in particolare il punto di ingresso, il punto di innesto del pennino nella sezione che nel modello precedente ha creato qualche piccolo problema, insomma qualche problema di ossidazione e pare essere stato risolto. L'impugnatura la vediamo adesso nel momento di scrittura, le metallerie le abbiamo già detto, ecco le quali facciamo vedere ancora una volta. L'altra penna, la facciamo vedere immediatamente, è la Mirage Mythos. Anche questa è stata rientrodotta recentemente. Questa è presente invece in tre colorazioni diverse, che sono questa qui che è l'Apollo Brown, un'altra che è la Zeus Blue e la terza che è l'Afrodite Purple. L'Apollo Blue è dedicata ad Apollo, dio delle arti e della musica, la Zeus Blue, sovrano dei Monti Olimpo e re degli dei, e poi Afrodite, la dea dell'amore e della bellezza. L'elemento destentivo della Mirage, anche in questo caso, è il nuovo pennino Schmidt, che andiamo a vedere tra poco. Ah, è una cosa che non ho detto ancora, che entrambe le penne sono disponibili sia a contratto F, che a contratto medio, che a contratto Broad. Non sono previsti altri pennini. Se volete andare su altre tipologie di gradazione di pennino, dovete rivolgervi al catalogo della Visconti, ovviamente o ad altri marchi. Nel caso della Visconti sono disponibili verso il basso, si scendendo verso il basso, modelli come la Ecologic, che presenta, se non ricordo male, una gradazione in più, mi pare, l'extrafine, e oppure andare verso l'alto e ci si sposta rapidamente verso modelli che conosciamo bene, a partire dalle varie Homo Sapiens, che sono declinate in varie tipologie di colori e anche in varie modelli specifici, a seconda del tipo di caricamento. Altra novità rispetto al modello Mirage classico, la sezione centrale, eccola qua, in ottone, anziché in resina. La veretta centrale su cui è incisa anche la scritta Mythos e la V simile al Monte Olimpo, che viene appunto stilizzato. Eccola qua. Togliamo questa che ci fa un po' da contraltare. Facciamola giù così. Eccola qua. Questa è la veretta centrale di cui vi ho parlato. Direi che si vede molto bene. La clip è anche qui la classica Visconti. Il meccanismo della clip Visconti è antistress, come dice Ricky. Quindi si può utilizzare tranquillamente anche in sostituzione di quello della Lami 2000. Il ponte vecchio qui riporta la scritta Visconti con incisione al laser. Non è presente il sistema MyPen su questa penna qua, perché questa parte qui presenta il sistema di aggancio e di movimento della clip. In fondo la vidi Visconti che va a chiudere il fusto della penna stessa. Togliendo il cappuccio scopriamo la nuova sezione appunto tutta in ottone satinato e una lavorazione con una specie di veretta o zigrinatura o godronatura, non saprei neanche qual è il termine specifico corretto, comunque lo vedete perfettamente, che oltre a creare uno sbalzo stilistico particolarmente interessante, ci fornirà un'ottima fonte di appoggio in fase di scrittura. Il pennino a differenza di quello della Rembrandt S non è qui con finiture rutenio, ma è con finiture dorate in gradazione F ed è sempre il pennino di dimensione 6 di Schmidt. Anche questa penna svuotando il fusto ci svela il caricamento a converter, qui caricato con l'inchiostro Jacques Arbenne di cui vi ho parlato prima. Il converter è marchiato bisconti e riporta la doppia B e anche in questo caso abbiamo la filettatura metallica che aggancia su metallo. Vi facciamo vedere ancora un attimo da vicino, diciamo così in contrasto. Il sistema anche in questo caso della Mirage Mythos è ad aggancio magnetico, essendo il disegno della penna leggermente rastremato, vedete, non è faccettato ma è rastremato, quindi abbiamo una parte cilindrica, lo vedete qui, potete vedere da questa parte qui, una parte cilindrica che viene interrotta da una rastrematura, poi di nuovo una parte cilindrica e poi di nuovo una rastrematura. Ovviamente questo necessita o richiede un perfetto allineamento del cappuccio sul fusto della penna e questo viene ottenuto dal sistema di aggancio magnetico che automaticamente allinea la parte rastremata a quella rastremata e quella cilindrica a quella cilindrica. Non ci sono pericoli che questa cosa non avvenga a meno che non cappottiate direttamente il cappuccio. In entrambi i casi il cappuccio non è postabile, o meglio, si può innestare ma rimane soltanto incastrato a gravità perché non è presente una parte magnetica che lo tiene solido, insolido alla penna, al fusto della penna, e quindi sconsiglierei assolutamente il suo utilizzo in quella modalità. Vediamo ancora un attimo, visto che c'è una buona luce in questo momento, il sole va e viene, eccole qua. Passiamo alla fase di scrittura. Usiamo per primo un quablock, pigna. Allora, cominciamo dalla Mirage Mythos. Allora, io prima mi metto un attimo così, poi andiamo un attimo nel dettaglio, facciamo così non abbiamo problemi di fuoco. Prima di tutto abbiamo qui una Mirage Mythos di Visconti. con pennino F. Io cambio pagina perché proprio non mi piace, questa è tutta sporca. Scusate, evidentemente era passato il tratto di quella precedente. Scusate, ma facciamo questo cambio. Quindi abbiamo detto, così metto anche prima il marchio. Visconti. Mirage Mythos con un bel pennino gradazione F. Inchiostro abbiamo detto un Jacques Herben il cui nome è Terre d'Ombre. Bene, facciamo subito una prova di questa penna. Il pennino è rigido, non è flessibile, neanche premendo leggermente si ottiene un allargamento del tratto, ma semplicemente un modestissimo maggior apporto di inchiostro che lascia prevedere, quindi anche in questo caso, un modestissimo allargamento dei Rebbi, io non lo riesco a rilevare ad occhio nudo, probabilmente con un ingranditore 20x che evito di andare a usare in questo momento, potremmo apprezzarlo, però insomma sostanzialmente c'è. Il tratto è molto scorrevole, il pennino è molto scorrevole, in una classica gradazione da 1 a 10, parlando di attrito di scrittura e parlando anche in questo caso di una carta particolarmente ruvida, o comunque non di pregio, direi che siamo nell'ordine dove 10 è il massimo, 10 è il massimo, attrito di scrittura gli diamo un 3. Vediamo un attimo, attrito di scrittura abbiamo detto, diciamo così, il pennino si comporta molto bene sia da basso verso l'alto, dall'alto verso il basso, da destra verso sinistra e da sinistra verso destra, quindi nelle quattro direzioni c'è omogeneità di feedback o attrito di scrittura, è identico, non ci sono variazioni di tratto. Cambiando e inclinando il pennino e non tenendolo più parallelo al piano della carta si ottiene comunque una buona possibilità di scrittura, quindi il pennino perdona anche inclinazioni non consone, ma funziona molto bene. Parlando di larghezza del tratto, il dato di targa abbiamo detto essere un F e io direi che per quanto riguarda la realtà è un F europeo un fine più, diciamo, un fine più europeo e potrebbe essere un medio giapponese, un medio giapponese, direi di sì, potrebbe essere anche un fine più più, ma è complice anche un po' questa carta che insomma non è che assorba perfettamente, diciamo che allarga un po' il tratto, vedrete che sulla rodia farà meglio. Molto bella la gradazione di questo colore che permette anche di rilevare un certo grado di shading dell'inchiostro, facciamo ancora una zoomata superiore così lo possiamo apprezzare un po' qua. Ecco, qui vedete un po' di shading, lo faccio vedere ancora in diretta. Eccolo qua, un po' di scurimento del tratto. In ultimo, prova dell'abbondanza del flusso, medio alta. medio alta, va bene. La mettiamo subito alla frusta anche l'altra, quindi torniamo un attimo indietro come zoomolo, andiamo a vedere questa bella di sconti. Si vede? Sì, di sconti. Rembrandt S con pennino anche in questo caso fine. Abbiamo un inchiostro Leonardo noce moscata. Veramente bello questo inchiostro. Anche in questo caso la penna si comporta benissimo. Non ci sono differenze sostanziali tra questo pennino e l'altro pennino. E questo è un buon segnale, perché vuol dire che sostanzialmente abbiamo solo due esemplari qua, però insomma già siccome due indizi fanno un sospetto e tre indizi fanno una prova, diciamo che il sospetto di una certa continuità nella produzione, diciamo, nelle caratteristiche del mantenimento, delle caratteristiche tipiche del pennino in produzione in larga scala ci sono, le prime premesse ci sono. Il tratto mi sembra un filo più fine qua ma non lo imputo direi a questo pennino qua ma la differenza dell'inchiostro su questa carta. L'attrito di scrittura da 1 a 10 dove 10 è sempre il massimo rimane qui uguale a 3 come il precedente e anche in questo caso i tratti nelle varie direzioni non hanno differenza di sorta quindi il pennino è stato lavorato in maniera corretta sicuramente in tutta diciamo così la sua diciamo le sue tutta la sua superficie. Anche in questo caso il dato di targa è un F e il dato reale è un F+. L'abbondanza del flusso è pari a quella precedente l'alimentatore non mostra alcun problema nell'erogare il flusso d'inchiostro necessario affinché la penna ci permetta una costante esperienza di scrittura. Andiamo a vedere un attimo senza rifare tutto che abbiamo visto ma giusto alcuni tratti sulla nostra carta rodia prima senza un grosso dettaglio la penna qui in questo caso scorre veramente molto molto bene l'attrito di scrittura di questa Rembrandt scende da 3 a 2 e qui cominciamo ad avere quella classica esperienza del pattinamento quasi sulla carta e aumenta in maniera considerevole la risposta della carta e dell'inchiostro alla capacità di restituire un certo grado di shading lo vedrete lo vedete nelle lettere eccolo qua vedete come hanno cambiato diciamo così aspettano alcune lettere lo andiamo a vedere immediatamente anche sulla Mirage e così faremo un paragone fianco a fianco delle due penne ecco vedete che sto facendo gli 8 molto velocemente anche in questo caso l'attrito scende a 2 e anche in questo caso abbiamo un certo grado di shading leggermente minore ma qui è complice proprio la tipologia di inchiostro quindi adesso andiamo a vedere l'ultimo confronto tra i due tratti lo facciamo sopra per la Mirage e quindi scriviamo stilografica 1 2 3 1 2 3 e adesso subito sotto mettiamo la nostra Rembrandt siano veramente gemelle ripetisco un certo grado di affinamento del tratto su questa ma lo vado ad imputare di più all'inchiostro perché la sensazione sotto il pennino è veramente identica infatti anche qui devo dire il tratto è più o meno simile ecco questa è la differenza se volete faccio ancora una zoomata ulteriore per farvi vedere il dettaglio eccolo qua dei vari tratti allora belle diciamo ci trovo molto bene ma andiamo a vedere lo scimmiometro c'è anche qui presente carolinea anche perché le penne sono le sue e quindi adesso faremo lo scimmiometro insieme ma non con due colonne magari lo facciamo proprio cercando una sintesi tra i nostri pareri vediamo se siamo d'accordo allora torniamo un po' indietro se no diventa veramente incomprensibile vediamo se riusciamo a farlo in posizione 2 no lo facciamo in posizione 1 allora con cosa scriviamo scriviamo con la Rembrandt ma allora le penne sono una Rembrandt Rembrandt S e una Mirage Mythos le inchiostri sono i due che abbiamo detto e le penne scusate le carte sono varie allora facciamo qui la colonna della Rembrandt e qui andiamo a fare la colonna della Mythos allora che dici carolinea fusto e finiture sulla Rembrandt a me piace molto devo dire la libria è molto bella molto interessante è bello questo chiaroscuro che ricorda il grandissimo pittore tipologia poi quella del chiaroscuro della luce Rembrandt poi utilizzata molto in fotografia nella fotografia ovviamente ritrattistica un certo grado di ritrattistica un certo tipo di ritrattistica fusto e finiture robustezza spessore materiale sezione clip eccetera a me viene quasi da dare un 4 tu cosa ne pensi tu sei pienamente soddisfatta o sei solo soddisfatta allora io tenendo conto anche della Mythos forse darei tre qui ma semplicemente perché trovo entrambe molto comode nell'impugnatura nella scrittura leggermente più però poi quello ce lo ritroviamo nella comodità di scrittura sì anche questo è vero quindi qui siamo più su fusto e finiture finiture beh allora mi rimangio tutto e direi un 4 allora Carolina è su un 4 io mi trovo d'accordo perché come robustezza lo spessore in generale ma proprio la sensazione anche il tatto i materiali la sezione dei clip a me sembra veramente molto ben fatta ma già solo questa diciamo questa veretta qua ha una lavorazione impeccabile scusate non si vede eccola qua quindi io tu sei per il 4 sei d'accordo? assolutamente sì sì è vero perché l'impugnabilità l'abbiamo un altro punto dello scimmiometro quindi sì assolutamente perché io mi stavo facendo influenzare da quello invece lo vedremo dopo pennino e conduttore allora non è elastico è un pennino rigido la flessibilità quindi non c'è né l'elasticità né la flessibilità il flusso è perfetto costante abbondante non ci sono problemi il materiale del conduttore è in plastica io sono molto soddisfatto mi verrebbe da dare 4 potremmo dare 3 in funzione del fatto che proprio non è un conduttore in ebanite non significa niente in questo caso qua però potrebbe essere 3 o 4 tu cosa ne pensi? io sarei su 4 va bene abbiamo dato un 4 sensazione di scrittura fluidità scorrevolezza trito morbidezza di scrittura tu ti sei trovata molto bene io mi trovo molto bene anche qui io sarei pienamente soddisfatta va bene stiamo andando veramente alla grande bilanciamento comodità di scrittura e questo è quello che dicevi tu esatto io qui ma semplicemente perché poi ho una certa faccio un confronto con la mitos e quindi darei un 3 forse se non avessi avuto il confronto con la mitos avrei dato un 4 ma trovo leggermente più comoda l'impugnatura sulla sezione della mitos perché non stiamo sostanzialmente dicendo che questo tipo di zigrinatura o meglio di satinatura della sezione di zigrinatura finale nella parte dello svaso ti garantisce quindi un grip maggiore ti trovi meglio esatto sì proprio questo ok va bene allora trovo assolutamente comoda anche quella della della Rembrandt ma è veramente per un paragone tra le tue allora a questo punto anticipiamo anche torniamo un po' indietro e anticipiamo anche il 4 qua a onor del vero e per dovere di cronaca possiamo dire che questo tipo di sezione è sì metallica ma vi posso assicurare e l'ha verificato anche Carolina seppur quella ovviamente satinata sia superiore in termini di sensazione è assolutamente confortevole non ha nessun tipo di veramente di scivolamento è incredibile il lavoro che hanno fatto quindi non scivola minimamente e anche questo svaso in fondo aiuta tra l'altro e questo ve lo devo assolutamente dire è questo materiale o quantomeno diciamo così la sua copertura è assolutamente resiliente alle impronte delle dita ora si aggiungo solo una cosa sono assolutamente d'accordo anche tenuto conto di quello che invece abbiamo visto qualche giorno fa con la Tibaldi dove pur avendo qui il vero in resina anche la sezione e lì invece per esempio almeno la mia personale esperienza è che lì tende un po' a scivolare l'impugnatura cosa che invece non succede con la Rembrandt nonostante sia metallica e in effetti usiamo una Gina o poi le useremo anche per far vedere le differenze di dimisura questa parte della sezione non ha nessun svaso che permetta di fermare lo scivolamento dell'indice verso il pennino e in effetti anzi va a morire e quindi agevola un po' e tu che impugni la penna molto in avanti in effetti crea questa invece qui c'è una specie di freno questo è quello che insomma la sensazione che ci ha trasmesso carolinea come originalità design materiale forme colori io sono molto sul forse allora paragonandole sarei quasi sul 3 per una e sul 4 per l'altra ma è molto molto personale quindi mi mi affido a te io sarei sul 3 per la Rembrandt e sul 4 per la Mites va bene si era un po' rimasta aperta si è un po' fermata presentazione ed estetica della penna vabbè rimaniamo qui direi su un 3 e la classica scatola niente di particolare nessun inchiostro di cortesia ma insomma non siamo neanche nelle fasce altissime reperibilità e assistenza non ho letto particolari critiche sull'assistenza di sconti né particolari elogi per quanto riguarda la reperibilità c'è un sito ben fatto disponibile in molti negozi sia in Italia che all'estero io penso che direi di dare un 3 semplicemente perché non abbiamo proprio un riscontro diretto di questo no? si si e quindi lo manterremo anche qua lo manteniamo anche qua avevamo detto 4 qui sensazione scrittura avevamo mantenuto un 4 penino e conduttore manteniamo un 4 e fusto e finiture abbiamo detto manteniamo un 4 ora come rapporto qualità prezzo siamo nell'ordine dei 200 euro di listino sulla Rembrandt e 190 per quanto riguarda la Mirage ora che cosa abbiamo con queste cifre qua premesso che io trovo abbastanza sterili questo tipo di discussioni perché c'è dietro un mondo non è che possiamo solo quantificare e qualificare una penna semplicemente perché ha il pistone perché converte ma sicuramente quello ci aiuta sono caratteristiche importanti però siamo così capaci di capire quanto è resiliente ai graffi questo tipo di materiale all'esterno quant'è il grado di difficoltà con cui il grado di qualità dei materiali delle resine le resine sono tantissime di moltissime tipologie anche la tecnologia con cui viene montata da parra piena da stampo insomma sono tante quindi per fare questo tipo di valutazione qua dobbiamo orientarci più che altro in chiave relativa cioè basandoci su quello che propongono gli altri marchi direi allora qui siamo in una fascia di prezzo relativamente affollata diciamo tra i 150 e i 200 euro c'è c'è molto diciamo c'è un certo tipo di convergenza da parte di molti marchi cosa ci viene dato quindi penna cartuccia converter pennini in acciaio veramente ben fatti un'ottima lavorazione nella parte estetica nessun difetto all'origine almeno in questi due esemplari e un certo grado di bellezza diciamo così della della penna in sé e anche delle finiture mi verrebbe da dire boh tre potrei dire tre potremmo dire due perché magari c'è qualche concorrenza si attesta su cifre leggermente più basso a parità di caratteristiche tecniche quindi pennino conduttore sistema d'alimentazione dell'inchiostro a parità qualche diciamo qualche altro brand potrebbe fornirci qualche cosa in meno come prezzo diciamo tre vogliamo dire tre io sarei per un tre va bene che è un soddisfatto quindi non pienamente soddisfatto cioè si potrebbe fare di più diciamo che qua potremmo orientarci dal due al tre per entrambe io sarei addirittura sul tre quattro quindi il tre va bene benissimo adesso poi mi lasci la tua carta di credito allora per quanto riguarda le somme facendo finta che questo sia tre abbiamo 4 8 12 15 18 21 24 27 4 8 12 16 20 23 26 un inquietante 29 per cui che dire controlliamo ancora le dimensioni rispetto a una Ginao eccola qua che dire mettiamola là mi anche sì non ho detto una cosa sul bilanciamento che è un argomento che a me piace sempre molto scusate me lo sono perso prima ve lo faccio vedere allora le penne sono molto bilanciate per un semplice motivo che il peso si sposta tutto in punta in funzione anche della sezione di alimentazione scusate della sezione proprio della penna questo non porta un aggravio complessivo della penna perché gran parte del peso in realtà sta nel cappuccio un po' per il sistema magnetico in questo caso proprio della veretta ma il sistema magnetico di aggancio interno pesa veramente il giusto quindi tolto il cappuccio la penna diventa relativamente leggera con un bilanciamento tutto spostato verso il penino può piacere o non piacere questa cosa quindi io devo fare una valutazione il più possibile oggettiva soggettivamente direi che mi piace perché quando la penna va tutta in punta a parte il fatto che facilita ancora di più questo tipo di ragionamento cioè la penna scrive assolutamente sotto il suo peso e quindi significa che non dobbiamo andare a premere per ottenere il tratto dall'altro comunque questo peso ce lo dobbiamo trascinare e quindi potrebbe dare qualche fastidio quindi volevo solo trasmettervi questo concetto giusto per fare in modo che lo teneste in considerazione quindi annotazioni che dire parte lo scimiometro ascoltiamo un attimo e va bene non potrei non partire ovviamente perché i punteggi sono molto alti e devo dire al pubblico femminile anche in questo caso è piaciuta moltissimo a cosa a quale musica accoppieremmo questo tipo di di penne io le vedo molto bene entrambe in particolare forse la Rembrandt S abbinata a una bellissima canzone di Nina Simone che si chiama Falling in Love Again che è tratto dal suo album Nina with Strings che adesso andiamo ad ascoltare in sottofondo ecco lo scriviamo anche qua quindi Nina Simone ci accompagna nei saluti finali grazie per essere stati con noi è venuta un po' lunga vedo un 33-34 minuti di video ma d'altronde erano due penne condensate in una per qualunque cosa siamo qua scrivete i vostri commenti risponderemo spero che il nostro nuovo sistema di di illuminazione a norma ISO sia piaciuto a tutti e niente quindi per qualunque cosa scriveteci e alla prossima ciao ciao ciao